Ciao, sono NFJ e in questo semplice tutorial andremo a vedere come si crea una storia. Per iniziare, prendiamo un bozzetto del nostro supereroe, caratterizziamolo e diamogli un po' di colore. Aggiungete una ragazza da salvare. Non deve essere caratterizzata, basta che abbia le tette. Decidiamo l'ambientazione per la storia. Non so, una città, un castello o un mondo marino fate voi. Ma cosa è più importante per il vostro cartone, la vostra storia o quello che è? È il cattivo, che deve essere cazzuto ovviamente. Tipo un mini pony a cui è stato somministrato un mix di cocaina e metanfetamina. Magari voi dategli un superpotere al vostro eroe. Tipo essere immune ai laser o cose così. Se questo cartone animato ti è piaciuto, lasciami un like, fammi sapere cosa ne pensi con un commento e condividi con gli amici.